Provincia unita nella videosorveglianza integrata del progetto Sofia Diffidata una sala slot che forniva premi a clienti abituali Il 20 gennaio arriva a Mattarella e Ricci chiama a Pesaro alla Vitri Frigo Arena Sindaco di Fano Etienne Lucarelli pronto a candidarsi Galleria del Furlo chiusura notturna in direzione Fano fino a Natale Fano e Ricci chiama a Pesaro Ben ritrovati a Rossini News Il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 15 di dicembre apriamo con l'importante patto siglato questa mattina fra Prefettura, Questura e tutti i sindaci dei comuni della provincia di Pesaro Urbino che aderiscono a Sofia ovvero un innovativo progetto che non ha precedenti in Italia che metterà in rete la videosorveglianza pubblica e poi anche privata in un incisivo meccanismo di geolocalizzazione integrata Venerdì 15 dicembre nel Salone Metaorense della Prefettura di Pesaro Urbino si sono ritrovati tutti i sindaci dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino attorno a un tavolo con il prefetto Emanuele Saveria Greco e l'equestore Raffaele Clemente per mettere la firma su un importante protocollo di sicurezza integrata che non ha precedenti in Italia si chiama Sofia ed è un patto che geolocalizzerà i sistemi di videosorveglianza di tutto il territorio in maniera integrata un nuovo passo avanti nella sicurezza del territorio proprio in vista dell'anno di Pesaro capitale della cultura 2024 è un patto unico in Italia, non ci sono altre province che hanno questo patto servirà a mappare su una piattaforma informatica tutti i sistemi di videosorveglianza e le strade, le zone in cui i sistemi si trovano quindi avremo conoscenza, il protocollo del sistema si chiama Sofia che è proprio Sapienza quindi verremo a sapere esattamente la situazione della copertura dal punto di vista delle videocamere del nostro territorio questo è importante sotto diversi aspetti innanzitutto sicuramente sotto un aspetto di deterrenza perché avendo conoscenza immediata dell'esistenza delle telecamere su quelle data via è chiaro che l'autore di un reato sarà immediatamente identificato dalle forze di polizia in quanto potranno da subito risalire al gestore che ha la proprietà dell'impianto di telecamere quindi conoscendo il gestore e intervenendo nell'immediatezza potranno acquisire poi successivamente le immagini importanti, rilevanti quindi per adesso si mappano i sistemi non si ha un'acquisizione dell'immagine su questa piattaforma no, si avrà l'acquisizione soltanto della localizzazione degli impianti e dei gestori dati che saranno a conoscenza delle forze di polizia per intervenire poi nel momento diciamo della commissione di un eventuale reato è un sistema però che sarà presto allargato anche ai privati per avere proprio una conoscenza capillare della presenza delle videocamere sul territorio e abbiamo fatto una scelta che serve ad avere un piano tattico della videosorveglianza quindi in tempo reale sappiamo come, dove e quando ci sono ma soprattutto il nostro interesse è attraverso la cabina di regia di questo patto di conoscere personalmente chi gestisce le telecamere aiutarlo, dargli consulenza farlo partecipare in maniera attiva all'attività di sicurezza urbana è evidente che solamente avere una visione complessiva ci consente di gestire in maniera industriale e integrata i sistemi di videosorveglianza e non ognuno per i fatti suoi ringrazio il Comune di Pesano perché il Comune di Pesano ha messo a disposizione questa piattaforma informatica diciamo molto potente perché ovviamente immaginate la quantità di dati che vanno a essere immessi in questa piattaforma informatica quindi ringrazio il Sindaco Matteo Ricci ma consentite un ringraziamento particolare a tutti i sindaci della provincia perché hanno compreso l'utilità di questo strumento cioè hanno immediatamente capito che è uno strumento che va ad ingidere proprio sulla sicurezza anche percepita dai loro cittadini tutte le statistiche dimostrano che Pesaro, la provincia di Pesano Urbino è una delle realtà in questo momento più sicure in Italia questo però non ci deve far abbassare la guardia perché abbiamo visto che i fenomeni di criminalità organizzata non hanno più confini anche il nostro territorio è stato colpito negli anni scorsi abbiamo un problema sicuramente legato al traffico di droga e in generale al mercato degli stupefacenti e comunque sia c'è una realtà che costantemente vede anche furti, furti negli appartamenti fatti spesso e volentieri da bande predatorie quindi bisogna tenere la guardia molto alta e questo accordo consente di mettere a disposizione della prefettura e delle forze dell'ordine tutta l'organizzazione che i comuni hanno a livello territoriale a partire dai dati perché i dati saranno sempre più fondamentali nella gestione del territorio anche nella gestione della sicurezza in questi anni abbiamo fatto tanti investimenti se penso alla nostra città sulle telecamere anche telecamere in grado di leggere le targhe e quindi questo è il contributo principale che possiamo dare alle forze dell'ordine che nel nostro territorio stanno facendo un lavoro straordinario Restiamo in tema di sicurezza proprio la questura di Pesaro e Urbino in questa prima parte di dicembre ha intensificato i controlli mirati alla regolarità di attività molto particolari come le sale slot, le sale gioco, le sale scommesse vediamo quello che è emerso 11 sale slot e sale scommesse controllate per una di queste è stato disposto il provvedimento di sospensione dell'attività per un'altra è arrivata una diffida e questo il bilancio dell'intensificazione di controlli mirati alla regolarità delle sale da gioco della provincia effettuate dalla squadra mobile della questura di Pesaro assieme al personale della divisione Pasi e responsabile dell'agenzia delle dogane e dei monopoli durante le ispezioni canalizzate fra il 28 novembre e il 7 dicembre sono state identificate 29 persone di cui 11 con precedenti di polizia in alcune delle attività controllate sono state riscontrate irregolarità che hanno determinato da parte degli operatori impegnati nelle verifiche un provvedimento di diffida per un esercizio commerciale in cui venivano elargiti dei premi ai clienti abituali e come tali ritenuti più meritevoli in un secondo caso è stata proposta la chiusura per 15 giorni di un'attività per mancata presenza all'interno del cosiddetto preposto di sala ultime due settimane del 2023 e poi sarà Pesaro capitale della cultura 2024 ricordiamo che l'inaugurazione ufficiale è fissata il 20 di gennaio col presidente Sergio Mattarella che sarà alla Vitri Frigo Arena un momento come annunciato dal sindaco Matteo Ricci in questa intervista che vedrà invitata l'intera città di Pesaro un programma davvero densissimo ancora dobbiamo chiuderlo al 100% però già quello che abbiamo presentato al Maxi a Roma è un programma molto denso molto bello e anche con alcuni momenti davvero anche di grande livello culturale quindi c'è molta tensione per l'avvicinarci di questo 2024 inizieremo con un bellissimo capodanno con Radio 2 con la Pesce di Martino, con Lundini quindi sarà già una partenza importante e poi stiamo lavorando molto per l'inaugurazione ufficiale con il presidente della Repubblica il 20 di gennaio in cui invitiamo tutti i cittadini già da adesso perché abbiamo deciso di farlo al Vitri Frigo Arena per non rinchiudere l'inaugurazione e non renderla esclusiva solo alle autorità se l'avessimo fatto in un teatro sarebbe rimasto diciamo quasi esclusivo per le autorità invece in questo caso sarà un'inaugurazione popolare abbiamo invitato le scuole della provincia e i cittadini che vorranno potranno prenotarsi e ovviamente l'ingresso è gratuito però ovviamente essendoci problemi di sicurezza abbiamo bisogno degli nominativi e insomma nei prossimi giorni lanceremo anche questa campagna perché il 20 gennaio vogliamo aprire con un grande evento popolare per fare questo abbiamo bisogno delle persone che come è stato per la pizza 2024 la pizza Rossini lo scorso mese di settembre le persone saranno protagoniste anche dell'inaugurazione quindi non saranno soltanto spettatori ma stiamo organizzando un'inaugurazione nelle quali le persone che verranno saranno protagonisti loro stesse dell'inaugurazione stessa quindi insomma state attenti perché presto inizieranno le prenotazioni e avremo poi nel pomeriggio una grande giornata di festa con Max Gazet concerto gratuito poi con Casa Dei ugualmente sempre spettacolo gratuito e i giovani organizzatori di feste di Pesaro stanno organizzando una festa serale notturna per i più giovani con grandi artisti quindi sarà davvero una giornata particolare da segnare già adesso in agenda sabato 20 gennaio Ed ora ci spostiamo a Fano dove continuano ad emergere papabili candidati a sindaco perché dopo De Leo e Mascarin anche l'attuale assessore al turismo e all'attività economica Etienne Lucarelli annuncia di essere pronto a candidarsi a primo cittadino come candidato dell'area civica della lista Insieme è meglio E restando a Fano proprio oggi il sindaco serie assieme agli assessori Brunori e Mascarin ha posato la prima pietra alla costruzione del nuovo asilo nido di Bellocchi Oggi giornata importante abbiamo posato la prima pietra per la realizzazione dell'asilo nido di Bellocchi una realizzazione importante perché qua c'era esigenza essendo un quartiere popoloso di dare una risposta 0-3 anni che non era presente ma vorrei sottolineare che sta in un complesso in una visione più ampia di città perché abbiamo pensato proprio di dare una risposta nell'organizzazione delle strutture scolastiche che siano sicure e moderne che siano adeguate anche alle nuove esigenze con i consumi che siano attenti all'ambiente e vorrei ricordare che negli ultimi anni abbiamo investito quasi 15 milioni tra scuole elementari, asilo e dell'infanzia quindi questa è una scelta importante in una strategia che vede andare a dare risposte nei territori, nei quartieri abbiamo pensato ad una città ad un centro sempre più bello per essere attraente ma abbiamo pensato ai quartieri dove vivono le persone per migliorare la qualità della vita significa anche migliorare i servizi partendo dalle bambine e dei bambini dai più piccoli Ed ora una importante notizia di viabilità perché vi informiamo che fino al 24 dicembre resterà chiuso tutte le notti il transito nella Galleria del Furlo in direzione Fano sulla strada Flaminia la chiusura sarà dalle 20 alle 6 di mattina e il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo Furlo e rientro allo svincolo Calmazzo i mezzi pesanti potranno invece transitare all'interno della Galleria a intervalli di tempo con scorta tecnica del personale di cantiere la chiusura è motivata da interventi di pulizia periodica e verifiche tecniche con esami di laboratorio all'interno della Galleria Nazareno Firmani è il nuovo direttore sociosanitario dell'azienda sanitaria territoriale 1 di Pesaro Urbino il suo incarico sarà di 4 anni e prenderà servizio il 1 gennaio al posto del direttore protempore Edoardo Berselli a scolano di 63 anni il nuovo direttore è la quarta figura che completa lo staff della direzione generale insieme al direttore amministrativo e al direttore sanitario e avrà compiti di direzione e coordinamento delle attività di integrazione sociosanitaria CNA Artigiani Impreditori d'Italia sostiene Pesaro Capitale della Cultura 2024 un accordo che è arrivato questa mattina fra il sindaco Matteo Ricci e la presenza a Pesaro del segretario nazionale di CNA Otello Gregorini accompagnato nell'occasione dal segretario regionale Moreno Bordoni Domani sabato 16 dicembre a Pesaro in Piazza del Popolo dalle 10 alle 18 i volontari della protezione civile incontreranno i cittadini per un incontro della campagna io non rischio buone pratiche di protezione civile i volontari daranno informazioni sulle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto alluvione e maremoto e diffondere la cultura della prevenzione martedì 19 di dicembre l'ipermercato Spazio Conad donerà il pranzo natalizio alle persone fragili del territorio nell'occasione gli ospiti della Mensa Caritas di Pesaro si trasferiranno al centro commerciale Rossini Center per trascorrere una giornata serena e fraterna dove saranno serviti circa 60 pasti offerti dallo Spazio Conad alle persone appunto bisognose del territorio due tradizionali concerti di Natale per il coro filarmonico Rossini che andrà in scena domenica alle 16.30 al Duomo di Urbino e poi venerdì 22 alle ore 21 al Duomo di Pesaro sarà un suggestivo repertorio di musiche sacre dei più importanti autori del Settecento e dell'Ottocento sia italiani che europei da Bach a Pergolesi da Mozart a Mendelssohn le polifonie del coro si alterneranno al sublime voce del soprano Soyun Lee andando a formare un tutt'uno con il suono dell'organo le cui note prenderanno forma dalle mani di Lorenzo Antinori il tutto sotto la direzione del maestro Federico Raffaelli e ora vi annunciamo anche un appuntamento che si terrà martedì 19 dicembre alle 11 nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Urbino dove il nostro Paolo Pagnini componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Alumni di Uniurb terrà l'approfondimento la narrazione efficace parlare bene per comunicare meglio un'analisi sull'efficacia comunicativa che dà via un calendario di attività di alumni associazione di laureati all'Università di Urbino che punta ad allargarsi e mettere in contatto gli ex studenti dell'Ateneo Ed ora passiamo a immagini natalizie lo facciamo oggi con quelle che ci vengono inviate da voi telespettatori immagini che riguardano uno dei tanti allestimenti di pregio fra i presepi che compongono la suggestiva iniziativa di Betlemme a Talacchio il presepe che state vedendo in queste immagini è quello realizzato da Angela Giacomini Betlemme a Talacchio rende il borgo del comune di Vallefoglia un grande presepe con statue a grandezza naturale realizzata dagli abitanti del paese in un evento che vede anche la collaborazione della Proloco di Montecchio i presepi inaugurati lo scorso 8 dicembre si potranno ammirare fino al 14 gennaio ringraziamo la nostra telespettatrice per queste belle immagini e vi ricordiamo il numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 il filo di perle storie di donne che hanno fatto la storia delle donne questo il titolo di un nuovo ciclo di incontri divulgativi che partirà il 20 di dicembre fra liceo Marconi e biblioteca Bobbato il filo di perle è un progetto dedicato agli studenti e alle studentesse e a tutta la cittadinanza e alla città di Pesaro è un progetto che nasce collegato con un filo al festival perle che nel 2007 fu realizzato dalla provincia di Pesaro e Urbino dedicato proprio al pensiero femminista e alle donne per le donne che cambiano oggi riprendiamo la storia di sette donne che hanno fatto la storia del pensiero femminista e che saranno raccontate nelle scuole presso la ulamagna del liceo scientifico Marconi e poi saranno anche portate per tutta la cittadinanza nel pomeriggio alla biblioteca Bobbato di Pesaro quindi sette appuntamenti che partono il 20 dicembre con la storia di Olympe de Gouche e poi proseguono con Mary Wollstonecraft Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, Virginia Wolf Simone de Beauvoir e Carla Lonzi quindi da dicembre 2023 fino a novembre 2024 ci accompagneranno con la storia e con il pensiero e il loro testimone sarà raccolto da altrettante studiose che dialogheranno sia con gli studenti che con la cittadinanza rispetto a quello che ci hanno donato queste donne e che ancora oggi vogliamo fermamente ricordare perché soltanto conoscendo il pensiero delle donne che hanno fatto la storia delle donne è possibile da loro imparare e davvero attivare quella che il percorso donna ritiene da sempre sia importante la rivoluzione culturale sui temi del femminile è un percorso che abbraccia questo anno scolastico partendo questo 2023 il 20 dicembre che continuerà fino al 2024 e continuerà ancora nel prossimo anno scolastico 24-25 l'idea è di arricchire questo filo di perle sempre con nuove figure che possono creare la differenza e aumentare la conoscenza di quelle donne che hanno lasciato tanto la nostra generazione e che vale la pena riscoprire racchiude un po' il senso di quello che con la capitale della cultura 2024 vogliamo trasmettere alla cittadinanza e alle nuove generazioni l'idea che con la cultura con la conoscenza la realtà si possa cambiare e fornire altresì gli strumenti alle giovani generazioni per poter capire comprendere sempre di più la realtà che ci circonda promuovere il pensiero della differenza significa promuovere una storia delle donne che molto spesso è stata taciuta all'interno dei libri di scuola dei programmi istituzionali sull'educazione ma che con convenzione riportiamo alla luce riportiamo alla conoscenza di tutte e di tutti ed ora concludiamo il nostro telegiornale con altri consigli per gli acquisti natalizi ad esempio quella delle stampe delle foto da incorniciare che è un regalo molto gettonato e che ora si arricchisce anche di novità tecnologiche che lo rendono ancora più pratico sempre più richiesto soprattutto in questo periodo natalizio il servizio di stampa fotografie lo sanno bene qui da HelioGraph Copy Center di Pesaro con 40 anni di esperienza che proprio per venire incontro a questa esigenza ha aggiunto un nuovo dispositivo innovativo un dispositivo touch che consente una sorta di self service al cliente sì esatto la richiesta delle foto è sempre maggiore quindi il cliente in autonomia o con il nostro aiuto può venire qui seguire le istruzioni del monitor toccare il monitor e andare in stampa attraverso il proprio dispositivo che può essere il telefono oppure un supporto di memoria USB scegliere le foto nella galleria e andare direttamente a scegliere il formato e stampare tutti tendiamo ad accumulare fotografie nel telefono poi non si va mai a quel passo successivo della stampa questo magari è un modo ulteriore per invogliare verso il mettere su carta su una foto professionale questo tipo di ricordi che abbiamo nei nostri dispositivi benissimo possiamo quindi stampare la foto nel formato che vogliamo scegliere addirittura una cornice e tornare a casa con un bel pensiero così ho scaricato le foto le ho messe su carta e poi posso appenderle o regalarle come dono ad un amico rimangono i servizi tradizionali si possono inviare foto da stampare via mail via whatsapp questo però è davvero un servizio nuovissimo appena installato appena installato a circa una settimana nel nostro negozio quindi attraverso whatsapp, email ma addirittura attraverso l'app che abbiamo presentato alla volta precedente possiamo stampare noi per voi il vostro pacchetto di foto che siano una o 50 o il quantitativo che volete si conclude qui il nostro notiziario Rossini News subito dopo il Tg non perdetevi alle 20 il nostro speciale dedicato al primo compleanno del museo archeologico oliveriano ritrovato ad un anno dalla sua inaugurazione nel nuovo allestimento buon compleanno museo speciale questa sera alle ore 20 a seguire alle 21 e 20 vedremo le gocce di colore la storia vera di Simona parleremo di Simona questa bambina arrivata a Pesaro con disabilità importanti che è stata curata e accudita da tante persone tra i quali il centro posturale ortopedia Falcone Pesaro che ci racconterà questa storia è condotta dal nostro Antonio Astuti gocce di colore storia vera di Simona questa sera alle 21 e 20 e poi vi ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione di Rossini TV torna domattina in diretta alle 7 e 20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dal nostro Marco Cadeddu e invece Rossini News si conclude qui vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti